Ragazzi fuori vent'anni dopo, quali sono le caratteristiche che devono avere i futuri attori? I futuri attori, prima di ogni altra cosa devo dire che il film che io sto sviluppando si chiama vent'anni dopo, è legato ai film Mary per sempre e Ragazzi fuori, io dico questo e preciso questo perché essendo che Mary per sempre e Ragazzi fuori sono dei film blindati con dei diritti, ho dovuto e sto utilizzando vent'anni dopo però con un tema che allaccia Mary per sempre e Ragazzi fuori. Qual è il suo augurio che vuole fare a questi ragazzi? Allora io sono stato qua due giorni, io so solo che aiuto e sostengo sempre i giovani, quando vedo questi ragazzi dico prima di ogni altra cosa di stare attenti a quello che porta i casting dove chiedono soldi oppure viceversa dove chiedono chissà per lavorare e per fare il film e devi pagare, io sono contro questo e sono a favore dei giovani. Sono molto bravi, i bambini soprattutto ho visto dei talenti che sono meravigliosi, posso dire solo in bocca al lupo. Grazie.